Non sono un demonio e non nascerò se mi chiamino così! Adesso! Brucia! Mi chiamo Shinra Kosaka, poppiare di terza generazione. In prima visione assoluta, Fire Force. A settembre, su Italia 2. L'Atom. L'Atom. Sono il capitano dell'ottava brigata della Fire Force. Mi chiamo Akitaru Ophi. Pakehi Sahinawa, venente di questa sgangherata brigata. Le bande blu luminescenti intorno alla nostra divisa rappresentano il legame che ci unisce ai nostri compagni nelle fiamme e nel fumo. Le fiamme sono il respiro dell'anno. L'attava brigata della Fire Force in azione! In prima visione assoluta, Fire Force. A settembre, su Italia 2. Vai, Excalibur! Ma come cavolo ti permetti? Di chi è chiamato, Gorilla Ciclop? Un cavaliere prende ordini soltanto da una bella principessa! Lascia che ti mostri il dislivello di potenza che c'è tra noi due. Mi presento, mi chiamo Arthur Boyle, re dei cavalieri. Nessuno può resistere ai cavalieri, al re dei cavalieri. In prima visione assoluta, Fire Force. A settembre, su Italia 2. Nekomata! Kabatikotatsu! Pronta a farsi valere! Che c'è? Si può sapere che cavolo hai da guardare? Che hai da ridere, maniaco? Orati! Accidenti! Sono incappata di nuovo nella mia condizione clonica di appena falpati! In prima visione assoluta, Fire Force. A settembre, su Italia 2.